Quando si parla di sicurezza, dobbiamo pensare che la sicurezza è una valenza più ampia di quella che in genere viene ricordata. Noi dobbiamo pensare che manca una sicurezza su luoghi di lavoro, manca una sicurezza per chi cerca lavoro, per chi è precario, manca la sicurezza per chi ha il diritto di avere un'assistenza sanitaria e un'istituzione scolastica decente. Quindi io credo che il dibattito sia molto riduttivo quando è tutto concentrato sulla mancanza di sicurezza nei quartieri, nelle strade, nelle città e spesso sia in qualche modo veicolato, ampliato da chi sulla percezione di insicurezza che viene data ai cittadini fonda o tenta di fondare una fortuna politica. Così è stato per il centro-destra fino ad oggi, sulla paura più percepita che reale dei cittadini, ha cercato di fondare le fortune politiche del centro-destra stesso. Purtroppo questo insegnamento non è servito a cambiare atteggiamento anche da parte di amministrazioni centrosinistra, compresa quella di Pisa. Il patto della sicurezza va in quella direzione. Si pensa di risolverli, di affrontare questo tema ampliando la militarizzazione del territorio con nuove forze, con l'innesto di nuove inorganico forze dell'ordine. L'insegnamento di Milano e di Napoli con le ultime elezioni che ci sono state, i temi affrontati da Pisapia e De Magistris ci dicono, e su questo si vince che la sicurezza la si ottiene risanando le periferie, investendo nella socializzazione fra la gente, promuovendo politiche di integrazione e di accoglienza e evitando quella contrapposizione e quella lotta fra poveri che c'è in qualche modo, rispondendo ai bisogni di tutti i cittadini e nessuno escluso.